Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Mindforce Oggi siamo su GTA V Online per portarvi una modalità che mi è sempre piaciuta, ovvero scia mortale E volevo approfittare che in questo periodo avevano messo i tripli soldi e i tripli punti Quindi una combinazione perfetta per portare questa modalità Abbiamo chiuso, perfetto Ok abbiamo 10 vite e... ah ok 5 minuti di tempo Al momento mi sto conservando il turbo per chi non ce n'è bisogno Che culo, che culo Sta venendo sopra, perfetto Chiudiamolo, chiudiamolo, eccolo Ah che bello Vi dico questa insieme a slasher sono le mie modalità preferite Il viola praticamente si vuole fare a nientare da me, c'è proprio a sculacciare Ah, per poco Vai Ok qua dovrebbe uscire il turbo Quindi direi di aspettare un po' in questa zona Per ora sono quello che ha più vite quindi posso prendermela con calma Eccolo Dai 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 Perfetto Perfetto Ok Ok Io potrei benissimo girare così Per tipo tutto il tempo che rimane È finita la partita Ah ok qualcuno, uno dei due è abbandonato Uno dei due è abbandonato allora Lanciamoci subito nella prossima partita Due round, 5 minuti, 6 vite Fuori Questa piccola manovra ci è costata 51 anni Ciao ragazzi dopo 83 anni siamo di nuovo in partita E niente oggi si gioca sempre a 3 Perfetto Ottimo anche il turbo Partiamo bene Mio Mi sono impressionato inutilmente ok Vai No 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 Devo rallentare How are you? Dobbiamo levare l'arancione di mezzo Corbe mio Ok Ah ok Perfetto Quello sta ancora a 10 intanto eh Prendiamolo Bello Ce la faccio? Si Ottimo Grande Grandissimo Uno dei due Devo chiudere Vai Colpiamo quello rosa Che dita Sta in mezzo Sto in mezzo? Vai Godo Non so cosa Cosa oggi Sto facendo solo un round a partita Va bene Andiamo subito alla prossima partita Sperando di stare in quattro Qualcuno Qualcuno vuole farmi giocare? Che dite? Oh io come host Facciamo 5 minuti 8 vite Per aumentare un po' quel Quello Quello Si Quello Non vedo il quarto No no Non ci credo Non ci credo Stiamo giocando in tre Va bene Va bene Ho cercato di chiudermi Questa è la mia tattica Oddio il viola Il viola Non si vede Oh Oddio Oddio È tipo godo È tipo godo Ok No Quando lo faccio apposta Non lo uccido Ma dov'è? Dov'è? Cosa? Godo Ok lo spareggio Allora in teoria Se mi tengo qua Dovrei farcelo No Vabbè è stata con me Abbiamo una battuta dai No non mi portare in primo Un'ora di video Per trarne 5 minuti Ma ci rendiamo conto Basta che noi giochiamo in 4 Vi prego Una soddisfazione Una Una Più che mai Sono stato cacciato Dalla mia attività Ma io scommetto Che tipo questo Mi spelle Non ci credo Ma vaffan- No più che No più che Grazie a tutti.